Sabato 6 agosto si riapre e il post pubblicato su Facebook da Marco Finori, l'imprenditore che ha la gestione degli impianti di risalita dei prati Itivo. Una possibilità quella della riapertura della seggio cabino via alla Madonnina che per molti oramai sembrava quasi impossibile visto le numerose vicissitudini e lungaggini burocratiche che da due anni hanno portato allo stato di fermo. Noi abbiamo in questo periodo fatto numerose proroghe per non far decadere le concessioni in essere e abbiamo anche dato una rimodulazione sul pagamento appunto per favorire questo periodo abbastanza complicato. Speriamo che il 6 di agosto si apra la cabino via. Ma l'ottimismo che regna diventerà certezza solo dopo l'ispezione generale di venerdì quando verrà dato l'ultimo ed essenziale ok alla riattivazione dell'impianto di risalita. Noi siamo contenti per gli operatori turistici perché così si riattiva un attimino con l'apertura di sabato anche il turismo che è stato ai minimi storici in questo periodo. Non siamo contenti per quanto riguarda la programmazione del turismo appratitivo che è inesistente quindi non è possibile fare turismo aprendo il 6 di agosto. Quindi c'è da sedersi e da rimodulare un po' tutta la programmazione turistica invernale ed estiva. Dovremmo aspettare il 13 settembre per vedere cosa dice il Consiglio di Stato con il ricorso della ditta Finori dopodiché ci sederemo con tutte le parti e vedere un attimino di riorganizzarci in maniera professionale.